Musica Presentata stamani nella sala consigliare della Rocca dei Rettori dal Presidente della Provincia di Benevento, Anillo Cimitile, dalla dirigente del settore relazioni istituzionale dell'ente Irma Di Donato e dal direttore artistico Vittorio Iollo la decima edizione del gradatore d'oro, il premio istituito dalla provincia conferito a quanti hanno illustrato il sagno nell'imprenditoria, nelle professioni, nelle arti, nella cultura e nello sport. I premiati di quest'anno sono Biagio Spallone, artigiano e imprenditore emigrato negli Stati Uniti, Fabrizio D'Aloia, imprenditore sannita, Mario Collarire, presidente del CONI provinciale, David Anthony Poppi, imprenditore che ha trovato fortuna negli States, Luisa Nardini, docente dell'Università del Texas e una delle massime esperte mondiali di musica e canto medievale, in particolare di quello gregoriano e bereventano, il regista Ugo Gregoretti, animatore per lunghi anni dell'industria culturale televisiva pubblica e del teatro, e il premio alla memoria per lo scenografo Paolo Petti. Questi ultimi due, entrambi non sanniti, hanno dedicato gran parte del loro lavoro ed opera al sannio. Direi che oggi è più importante che mai, perché è un premio nel quale noi, una giornata, una serata, nella quale noi vogliamo mettere in risalto il Sannio Pride, l'orgoglio sannita. Questo territorio che produce eccellenza nell'arte, nella cultura, nell'imprenditoria, nel lavoro, e anche nelle dure esperienze riesce ad emergere, e pensa per esempio al grande fenomeno dell'immigrazione. È qualcosa che nasce dalle nostre storie, dalle nostre tradizioni, dalle nostre identità, quindi appartiene ad un patrimonio fondamentale, che oggi più che mai, in tempi di crisi, va messo in evidenza e indicato, soprattutto alle future generazioni e chi quotidianamente lavora. È una manifestazione di straordinario successo, che vede ogni anno crescere sempre di più quelli che si rivolgono o ci vengono proposti per essere selezionati e premiati. Quest'anno, di pensate, la Commissione ha voluto svolgere il loro lavoro, erano 24. E peraltro è una manifestazione che riceve segnalazioni da tutto il mondo. Ne abbiamo ricevuto dalla Svizzera, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia. Ne abbiamo ricevuto da tutto il territorio, nessuno escluso. Una serata che è stata sempre vista come un momento di arte e di cultura, di storia, di tradizioni, e che quest'anno avremmo potuto presentare in grande spolvero, perché è la decima edizione, quindi è un'annata importante, e fra l'altro cade in un grave momento di difficoltà, di crisi, un momento in cui si mette in discussione anche la provincia di Benevento, lo sapete. E tuttavia, però, questa volontà di dare vita magari ad una manifestazione più luccigante, più forte, più ricca, ha dovuto fare i conti con le difficoltà, con la crisi che è intorno a noi. E con l'esigenza di avere anche in questa manifestazione sobrietà e austerità. E all'insegna della sobrietà e dell'austerità la condurremo. L'abbiamo spostata da agosto all'autunno, quindi tirata fuori anche da momenti in cui, insomma, c'erano tante manifestazioni che venivano fatte, abbiamo rinunciato a quell'upgrade che avrebbe potuto portare questa trasmissione ai livelli televisivi, c'era una richiesta per portarla ai livelli televisivi, abbiamo detto che quest'anno non era il caso. Debo anche segnalare che abbiamo rinunciato agli sponsor. Nella operazione di riduzione del budget abbiamo voluto rinunciare agli sponsor per non entrare in competizione con altre iniziative che hanno bisogno di finanziamenti. Non avrà costi più contenuti? Avrà costi più contenuti, decisamente più contenuti rispetto al passato, ma vedrete che ciò non ha significato rinunciare, inizialmente all'iniziativa. Rinunziato al suo significato e anche alla qualità della iniziativa stessa con contributi artistici rilevanti, territoriali e nazionali. C'è il rischio che quest'anno sia l'ultima edizione del premio? Io spero di no, spero di no. Noi dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare a che cosa succede delle norme in rete di patrimonio materiale e immateriale del nostro Sannio di fronte all'eventuale scomparsa della provincia di Benevento. Si ci scherza troppo con queste cose. Io penso a manifestazioni come questa, ma anche a patrimoni come, pensate, il Museo del Sannio, che è provinciale. Che fine faranno? Io sono fiducioso sul fatto che questo territorio sarà in grado di mettere in piedi istituzioni che possono continuare queste gestioni e queste tradizioni. Chi sa, perché non pensare ad una fondazione provincia di Benevento? Tanti gli artisti per la serata di Gladiatore d'Oro. Sì, quest'anno è giunta la sua decima edizione, quindi speriamo non ultima. Abbiamo un cast molto importante, inizia e condurrà la serata a Caterina Balivo. E' un punto firmo, è la sua quarta conduzione. Poi, per quanto riguarda la sezione dei cantanti, ci sarà Angelo Branduardi, che è un fautore della musica antica italiana e non. Poi abbiamo ancora per il canto Mario Maglione, che è un filone napoletano. E ancora per i giovani abbiamo iniziato un appuntamento giovanile, Irene Fornaciari, che sia proprio un pubblico per ragazzi, essendo lei coetanea. Poi ricordiamo tutti che è la figlia di Zucchero. Per quanto riguarda poi abbiamo Serena Autieri ancora, per la grande musica, anche lei attrice di teatro e anche di cinema. E per finire abbiamo Giobbe Covatta, che è il comico, quindi intratterrà con la sua comicità quasi surreale. Credo che divertirà e allieterà il pubblico. Quindi appuntamento al sabato 20 al Teatro Massimo. Al Teatro Massimo per questioni meteorologiche, insomma? Beh sì, ormai siamo in un periodo quasi autunnale, quindi è rimpensabile realizzarla a Piazza Roma. E c'è anche un altro, mi sono dimenticato, la cosa più importante, la nostra big band diretta dal maestro Aucone, che accompagnerà tutti gli artisti.